Ed è proprio in una struttura lombarda che verranno implementati sistemi innovativi e all'avanguardia. All'ospedale San Paolo di Milano verrà inaugurata la scuola di formazione in chirurgia robotica. Interventi meno invasivi, complicanze ridotte ed egenza più breve grazie all'innovazione tecnologica. L'ospedale San Paolo di Milano lancia la scuola di chirurgia robotica. Per noi è un momento straordinario perché non è solo formazione ma le sedute chirurgiche che sono programmate sono programmate per i nostri pazienti. Studenti, specializzandi e medici eseguiranno operazioni come questa al colon retto grazie a un robot dotato di doppi comandi. Come in una doppia console di un aeroplano o di una scuola guida è possibile che il chirurgo esperto insegni direttamente al chirurgo junior, al chirurgo giovane dove andare, cosa fare. La sala operatoria è collegata a un'aula da cui seguire gli interventi. Il chirurgo dirige i bracci del robot da una postazione che offre una visione tridimensionale ad alta definizione della zona su cui opera. Fra 10-15 anni la chirurgia robotica sarà quello che è stato 10-15 anni fa la laparoscopia. La regione Lombardia ha finanziato il progetto dell'Università di Milano presso l'ospedale con 700 mila euro. Curare, ricercare e insegnare sono tre pilastri fondamentali su cui si fonda questa nuova iniziativa che è un'eccellenza a livello mondiale. La nostra scuola medica si è comportata in modo straordinario in questi mesi e questa è la prova che noi andiamo avanti e non ci fermiamo malgrado tutto. E ora diamo uno sguardo al metro.